Fumata nera per la nomina del commissario che dovrà occuparsi della messa in sicurezza dell'intero sistema del Gran Sasso. Benché il termine del 2 luglio, indicato dal decreto sblocca cantieri ormai trascorso, la scelta del nome tarda ad arrivare. Le varie ipotesi emerse dall'incontro del 20 giugno tra il ministro Danilo Toninelli e il governatore Marco Marsilio sono state accantonate una dopo l'altra. Ad oggi la figura più quotata sembra essere quella di Walter Mazzitti, Teramano già con incarichi istituzionali tra cui la presidenza del Parco Nazionale del Gran Sasso e la gestione della rete autostradale abruzzese prima che fosse privatizzata, ma soprattutto con esperienze in materia di risorse idriche. Sì perché una delle questioni più spinose rimane quella dell'acquifero, il rischio inquinamento delle falde che forniscono acqua a 700.000 abruzzesi rimane alto. Per il disastro ambientale infatti è ancora in corso l'inchiesta della magistratura che ha messo sotto processo le società per azioni strada dei parchi e ruzzoreti e l'istituto di fisica nucleare. Tuttavia lo scheletro nell'armadio di Mazzitti è la politica, fu infatti fondatore di Forza Italia e nel 2013 approdò il PD. Tra i lavori vi è anche la messa in sicurezza sismica dell'A24 e A25 che nonostante sia gestita da strada dei parchi sarà finanziata interamente da fondi statali per 192 milioni stanziati col decreto Genova. La società concessionaria fa sapere che la prima grande struttura completamente antisismica sarà il viadotto di Santonofrio sull'A24 in pieno cratere sismico dell'Aquila. Il lavoro dovrebbe essere completato entro il 30 novembre.